Cosa vuoi sapere Nune? Dicci! Sera Sei sicuro che è ancora vivo Tebaldo? Salve a tutti, ecco a voi un'altra puntata della mamma lui deve vedere nella mia palla dove mi svelerà i segreti più nascosti oggi abbiamo un ospite speciale è Vilnano Allora Nune che cosa vuoi sapere? Esatto bambino, è Vilnano E io bimbo, mamma Tu sei un bimbo bravo poi lo vedremo dalla palla se sei un bimbo bravo No, è cossa Si, però si può prendere la scossa Cosa vuoi sapere Nune? Dicci! Io prima di farmi suora avevo un filarino con un certo Tebaldo ecco volevo sapere come poteva andare questa love story con il mio Tebaldino La sfera? Sei sicuro che è ancora vivo Tebaldo? Una mia amica scostumata l'ha visto che passeggiava vicino casa di Granny Allora, fai gli la domanda a Tebaldo che domanda vuoi fare a Tebaldo? Sentiamo Tebaldo, Tebaldo se non mi fossi fatta suora mi avresti sposata? Ha detto sì E' qualche altra cosa da chiedere a Tebaldo? Ho fatto bene a farmi monaca Ha detto no Ha detto no Ha detto sì perché eri brutta come la fame Ha detto che se la sarebbe sposata sì Ma ha detto no Ha detto no E' perché? V E' perché eri innamorato di te?